Vinca il migliore, speriamo di no, è un romanzo, non pretende di essere una biografia di Nereo Rocco, io non sono esattamente uno studioso di questo grande personaggio dello sport italiano, però ho cercato di mettere insieme testimonianze, anche altre pubblicazioni che ci sono, su quegli anni davvero indimenticabili di quando Nereo Rocco allenò il calcio Padova, stiamo parlando del periodo che va dal marzo del 1954 al giugno del 1961, in quei campionati, quasi tutti in Serie A, il Padova raggiunse guidato da Nereo Rocco i migliori risultati di tutta la sua storia, fino a un memorabile terzo posto nel campionato 57-58, infatti per molte settimane a Padova si sognò lo scudetto, poi il Padova perse il treno dello scudetto e all'ultima giornata di quel campionato perse anche la seconda posizione e si classificò terza. Che cosa aveva di diverso il Padova di allora da quello di oggi? C'era soprattutto alla guida questo personaggio importante, una persona preparata che sapeva scegliere bene i suoi calciatori e motivarli molto, Nereo Rocco lavorava molto sull'aspetto psicologico, motivazionale dei suoi uomini, una persona molto furba, molto astuta, dalle battute poi al fulmicotone come quella che dà il titolo al libro, che non è mia ovviamente, ma praticamente è l'adattamento di un famoso in bocca al lupo, vinca il migliore, che gli disse un giornalista torinese prima di una famosa Padova Juventus, vinca il migliore allora domenica signor Rocco e lui rispose di botto e in dialetto, ciò speriamo di no e in queste quattro parole c'era tutta una filosofia, il limite, la consapevolezza del limite ma anche, perché no, la sfida, l'accettare la sfida contro le grandi squadre del campionato di calcio italiano, quelle grandi squadre che a Padova spesso venivano a perdere. Fu proprio Ambrim a servire la mezzala rosa, autore del Golpa Tavino. Una vittoria avrebbe consentito al Padova di rientrare in lizza per lo scudetto insieme alla Juventus. Una bella favola che credo andasse raccontata ai più giovani, ricordata ai loro genitori che magari all'epoca non erano ancora nati e tutto sommato rivissuta dai nonni, dai meno giovani, che dentro quel sogno tra il 54 e il 1961 c'erano. Buona lettura.